Bella raga, è finita, è finita, locomotive di Mosca 1, Juventus 2, vittoria soffertissima, arrivata al novantatresimo minuto praticamente, con una magia, un'azione fantastica sull'asse Higuain, Douglas Costa, ovvero Douglas Costa e Higuain di tacco, Douglas Costa che ha saltato 2-3 persone, poi Higuain di tacco bellissimo, Douglas Costa che risalta, Ovedes un altro, se non sbaglio, un altro difensore, poi con la punta del piede fa passare la palla sotto le gambe di Guilherme, la Juve che era andata in vantaggio sul calcio di punizione di Ronaldo, Paperona di Guilherme, poi sulla linea aveva segnato Aaron Ramsey, primo gol in Champions con la Juve, secondo con la Juve dopo quello di Verona, e alla fine poi è arrivata la classica sciocchezza difensiva, sciocchezza, vabbè, è stato bravo anche Mirancic, colpo di testa, palla sul palo, palla che gli va di nuovo sui tre piedi, è 1-1 facile, lì un po' a peccato Rugani, credo, un po' Bonucci, e comunque quest'anno davvero subiamo troppi gol, non lo so perché, non so perché, e poi è arrivata la magia nel finale di Douglas Costa, complimenti alla Locomotive che ha avuto tante occasioni, neanche se in contropiede, perché alla fine il gioco l'ha fatto la Juventus, soprattutto un salvataggio sulla linea di Bonucci, sul tiro a porta praticamente vuota di Gio Amario, Gio Amario conferma le sue pessime qualità in fase realizzativa, ha giocato anche una discreta partita, però ha fatto un paio di tiri davvero da oratorio. Una Juve bruttissima nel primo tempo, nel secondo un po' meglio, abbiamo mantenuto il possesso palla, quello sì, abbiamo avuto diverse occasioni, nel primo tempo soprattutto con Iguain, bravo, Guilherme si è riscattato, nella ripresa anche Pjanic nel finale, palla dei vada in calcio d'angolo, alla fine è arrivata la magia di Douglas Costa che era entrato al posto di Ramsey proprio, è uscito Ronaldo per far entrare Di Bala, Ronaldo davvero una partita forse una delle peggiori da quando sta la Juventus, ha sbagliato anche i passaggi facili, ha avuto le cosiddette palle Sarri di cacciarlo, lui non era tanto contento, non so se con Sarri o con la sua prestazione, però alla fine ha fatto davvero poco Ronaldo, fa zottando un tiro con una grande parata di Guilherme sempre nel primo tempo. Dunque siamo agli ottavi con due giornate anticipo, ormai ci avevo perso le speranze, il gol è arrivato, ricordiamo, all'ultimo minuto, le qualificazioni così sono sempre le più sofferte, ma sempre le più belle. E dunque tra poco inizierà l'Atalanta col Manchester City. Io vi auguro una buona serata, ci sentiamo casomai più tardi per le altre partite, sempre fino alla fine Forza Juve. Ciao a io!